segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dobbiamo far finta di non sapere come una parte di questi bambini che sono la minoranza circa un terzo nascano da un atto che la corte costituzionale non io no la chiesa cattolica no l'aiatollah come ini giudica altamente lesivo della dignità della donna cioè l'uterino affitto chiamate maternità surrogata perché non vi piace chiamatelo come vi pare resta un reato è un reato qui è un reato in numerosi paesi europei prevede una transazione economica anche nel caso viene riconosciuto però in alcuni in alcuni paesi europei non in tutti in alcuni paesi europei viene riconosciuto in larga parte del mondo persino in india ultimamente in alcuni stati dell'india l'hanno proibito io e questo è il punto della registrazione perché se io commetto un reato anche piuttosto grave perché è riconosciuto un piuttosto grave in un'altra nazione e poi metto di fronte il legislatore italiano a un fatto compiuto e beh allora sto giocando sport allora però secondo me francesco no fermati un attimo per ti prego perché abbiamo tanti ospiti